Mi chiamo Tomasz Rozjanski, abito a Noves Korobo fin dalla nascita, gestisco un'azienda di famiglia insieme a mio padre e ai miei fratelli. Possediamo 800 ettari di terreni agricoli, offriamo servizi contoterzi su 2000 ettari e abbiamo un'attività di trasporto internazionale che opera tutto l'anno. Il mio nome è Piotr Rozjanski, mi occupo della parte agricola, di tutte le coltivazioni, della semina e semplicemente di tutti quei lavori che hanno a che fare con i campi. Cerco di controllare tutto e di fare il più possibile da solo. Già da piccolo ero molto veloce, mi piace agire, vedere che tutto procede rapidamente, mi bastano poche ore di sonno, sono sempre in azione e mi stanco quando c'è poco da fare. Lavorare senza telefono? No, sarebbe impossibile. Una volta mi trovavi in ospedale e fui costretto a consegnare il telefono. Per me fu un'esperienza terribile. Quando suona il telefono, scatto sull'attenti. Mio fratello è più impulsivo di me, questa è la differenza tra noi due. Io prendo determinate cose con più calma. Quando c'è bisogno di rimproverare qualcuno, naturalmente se ne occupa lui. Sì, mi agito rapidamente, ma mi tranquillizzo altrettanto rapidamente. Mio fratello è del tutto diverso e quando divento troppo frenetico si occupa lui di risolvere i problemi. È semplicemente più grande ed ha più esperienza e io resterò sempre il fratello minore, comunque vadano le cose. La nostra sfida è mantenere a questo livello tutto ciò che abbiamo raggiunto fino ad ora e continuare a far crescere la nostra azienda. Nostro padre è stato un agricoltore eccellente. Non è molto pratico delle nuove macchine. Siamo piuttosto noi che stiamo al passo con i tempi. Vogliamo guidare da soli le nostre macchine e anche regolarle. Quando però nostro padre non è abbastanza soddisfatto, allora ci prendiamo noi i rimproveri. La cosa è semplice, ci piace quello che facciamo. A volte penso che lavorare sia davvero rilassante. Quando tutto va secondo i programmi, quando tutte le macchine sono in azione e scendono in campo, le batterie si ricaricano e assapori davvero la sensazione che tutto si è in movimento. L'energia me la danno senz'altro i miei figli. Nella nostra azienda il tempo scarseggia e ogni attimo che riesco a passare insieme a loro è veramente prezioso. Mi rende felice. Un lavoro eccellente è quando le macchine sono in campo e tutto funziona al meglio. Quando il lavoro viene svolto ai massimi livelli, allora si può veramente dire un lavoro eccellente. Un buon lavoro è la sensazione di essere soddisfatti di ciò che facciamo. Mi piace scendere in campo verso sera e controllare il raccolto. Credo che sia un dono che riceviamo sin dalla nascita. È qualcosa che si percepisce interiormente. Un amore innato. Grazie. 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 Grazie.